Finito il fermo biologico, torna il pesce fresco dell'Adriatico. Così dopo 43 giorni di fermo obbligatorio, tornano in mare i pescherecci in tutto il mare Adriatico per rifornire dall'inizio della settimana ai mercati, la filiera, la ristorazione di pesce fresco. E col diretti, impresa pesca ad annunciarlo, ricordando che oggi c'è il dia libero a lungo tutta la costa Adriatica, a fritture e grigliate a chilometri zero, realizzate con il pescato locale e meno rischi di ritrovarsi nel piatto, soprattutto al ristorante, prodotto congelato straniero della stessa specie del nazionale, se non addirittura esotico e spacciato per nostrano. Secondo l'analisi di col diretti in presa pesca su Dativistat, nei primi tre mesi del 2015 sono stati importati in Italia oltre 233 milioni di chili di pesce e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici con un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il ritorno in mare in tutto l'Adriatico, sottolinea col diretti, è importante per le marinerie, le quali negli ultimi 30 anni hanno perso in Italia 35% delle imbarcazioni e 18.000 posti di lavoro, mentre si è progressivamente ridotto il grado di autoprovvigionamento del pescato. Col diretti auspica che questo sia l'ultimo anno di fermo pesca realizzato con l'attuale format che ha dimostrato di essere inadeguato poiché non tiene peraltro conto del fatto che solo alcune specie ittiche si riproducono in questo periodo. Intanto però il fermo pesca delle attività della flotta da pesca italiana continua lungo lo Ionio e il Tirreno da Brindisi ad Imperia, dove si concluderà il prossimo 18 di ottobre. Fino ad allora, ricorda l'organizzazione, in quelle zone è disponibile pescato proveniente dalle altre aree nazionali dove non è nato il fermo pesca, dagli allevamenti nazionali e dalla seppur limitata produzione locale dovuta alle barche della piccola pesca che possono ugualmente operare.